Perdere o guadagnare? Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Quando si tratta di scegliere di vivere per Gesù e per diffondere la sua buona notizia, a certuni può sembrare una vita sprecata. Non è raro che dei genitori non accettino o non apprezzino la vocazione religiosa o sacerdotale dei loro figli, perché pensano che sia una mancata realizzazione lavorativa, sentimentale. Pensano alle rinunce e ai divieti. In fondo si pensa che un'esistenza vissuta in questo modo sia sprecata. Chi invece ha provato a vivere così per un certo periodo di tempo sa benissimo che la vita non si spreca, anzi è vissuta totalmente. Spingiamo i giovani verso una donazione totale, incoraggiamoli a vivere per Gesù e per il Vangelo. Mostriamo ai bambini che tra i vari modi di vivere sono ancora attuali il sacerdozio e la consacrazione religiosa. Associata all'immagine del sacerdote non dovrebbe più esserci la privazione sessuale, aspetto maggiormente ridicolizzato e che spaventa ai ragazzi. Ci dovrebbe essere l'immagine di una vita felice, consegnata a tutti, perché tutti conoscano e ricevano la carità di Dio. Chi vive in questo modo continuerà a perdere la sua vita agli occhi del mondo. E forse è vero, ma perdendola la salverà. Dice Gesù, chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Allora tutti insieme, bambini, giovani, adulti, anziani, mettiamoci dietro Gesù, seguiamolo, viviamo per Lui. Ognuno con la sua croce, ma in comunione gli uni con gli altri, spinti dall'unico obiettivo. Temete, onorate, rodate, benedite, ringraziate, adorate il Signore Dio onnipotente nella Trinità e nell'unità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose. Uniti nel Caritas del Signore Modo. . . . . . .